Ci sono dei ragazzi che stanno pulendo alcuni modelli, sono modelli linee che sono tutti smontabili ed erano modelli didattici per insegnare come si facevano le cose d'inizio novecento. In questo momento sto restaurando questo modellino degli inizi del 1900, prima l'ho dovuto pulire tutto dalla polvere e adesso gli sto passando l'olio di lino e un pezzo di carta per renderlo più colorato, più lucido. Stanno venendo abbastanza bene. Poi abbiamo un esempio di decorazione. Una volta c'era il mestiere dell'imbianchino decoratore, quindi chi era imbianchino spesso sapeva anche decorare, conosceva un po' di tecniche per decorare le pareti o anche il soffitto di casa. Stiamo cercando di mantenere viva questa tradizione qua.